In questo momento di emergenza il nostro sistema sanitario, i nostri ospedali sono al collasso. Sono veramente messi a dura prova, il personale lotta ogni giorno per salvare una vita in più. È importante in questo momento cercare di dare il proprio contributo, se si può, anche economico, perché non è il momento delle polemiche, non è il momento delle considerazioni politiche, ma è il momento di dare una mano. Ecco perché come Comune di Borgoratto e Proloco di Borgoratto abbiamo deciso di sposare l'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Solidal a favore dell'ospedale di Alessandria. Pertanto la Proloco ha donato 1000 euro e il Comune 600, quindi poco più di un euro ad abitante. Invitiamo tutti a fare lo stesso, invitiamo i cittadini che possono, le aziende, le altre associazioni, a donare quanto possono. Un piccolo contributo è il più importante di zero. Facciamolo per noi, facciamolo per i nostri cari, per il nostro territorio, per il rispetto del personale che lavora ogni giorno, che si sfianca per salvare vite. Andate sul sito Fondazione Solidal e troverete tutte le informazioni necessarie per fare la vostra donazione. Se ognuno di noi fa la sua parte ce la faremo e vinceremo tutti. Grazie.